Prima di tutto infrastruttura, quindi l'infrastruttura è la prima cosa su cui dobbiamo puntare, noi abbiamo puntato allo stadio, punteremo a creare un centro sportivo collaterale alla squadra perché naturalmente col centro sportivo si deve rinforzare, anzi ricostruire perché la termocalcio non ha una grossa struttura del settore giovanile che è poi il secondo punto, l'aspetto più importante. Quindi far crescere molto l'aspetto giovanile dove effettivamente le mamme devono tornare a portare volentieri i ragazzi fin da piccoli perché noi dobbiamo crescere con i biavi, speriamo di essere un punto di riferimento per l'intera provincia se non allargare anche ad altre province limitro per l'intera regione. Quindi infrastrutture, investimento sullo stadio, sul centro sportivo, poi appunto il settore giovanile, settore giovanile che sarà importantissimo perché ci permette col settore giovanile di poter pensare poi dopo al terzo punto che sono quelli degli investimenti, dei risultati economici perché facendo crescere un buon vivaio noi possiamo avere anche delle risorse da poter vendere e rispendere per la crescita squadra. E infine naturalmente il risultato tecnico che è il quarto punto che naturalmente è una conseguenza dei primi tre. Altro punto da cui partire l'allenatore già individuato. Si parla di, è inutile nasconderlo, di Bruno Tedino, è uno dei possibili no? Bruno Tedino è sicuramente uno dei possibili, ne abbiamo contattati due o tre nomi importanti perché insomma noi vogliamo fare una squadra, poi naturalmente questa è una scelta che spetta direttamente ad Andrea Iaconi. Quindi è lui la persona che deve organizzare, a cui ho affidato sinceramente le chiavi della macchina. Altra cosa da mettere in evidenza, il rispetto dei ruoli. In queste prime fasi io sono una persona che quando non conosce un argomento è molto silente, attento e lascio fare. Poi piano piano quando inizierò a prenderci gusto, forse ci prenderò gusto, cercherò di tirar fuori qualche parolina, ma sempre con il dovuto rispetto perché io non entrerò mai in competizione con l'allenatore, altrimenti fare l'allenatore, faccio il presidente e mi rimiterò al mio ruolo. Poi a fine anno vedremo i risultati, se i risultati vanno bene continuo ad andare avanti, se non vanno male intervengo io con il presidente e cambiamo tutto. Volevo chiederle un'ultima cosa sulla tifoseria, non so se vuole lanciare un messaggio perché poi alla fine la passione dei tifosi è anche importante, soprattutto per chi scende in campo ma anche per chi lavora come dirigente, anche come allenatore e come staff sanitario. Devo dire che questa è stata forse la cosa più bella che mi è capitato in questi ultimi mesi, vedere tanta passione intorno, non mi rendevo conto che c'era un'animosità così viscerale da parte delle persone, tanti attestati di stima, speriamo che possano essere mantenuti e li posso, come dire, gratificare. Però so benissimo che comunque la tifoseria è molto volubile, quindi oggi si erre e domani si cade una fossa. No, devo dire che io spero, ho capito a termine che ci sono 3-4 gruppi di tifosi organizzati, spero che si possano riunire in un'unica fazione, ho letto già tanti attestati di stima da entrambe le parti e questo mi farebbe piacere se ci fosse un segnale chiaro anche alla prima di campionato su questo segno unitario perché ho capito che si erano separati dopo il problema della retrocessione dalla B alla C per motivi divergenti, assolutamente rispettabili da entrambe le parti, però diciamo che questo rilancio, questa rifondazione della squadra possa dare una spinta anche alla tifoseria di cercare unità perché comunque più si è uniti e sicuramente si crea ancora più forza da trasmettere alla squadra.